Buongiorno, buon fine settimana a tutti. Voi sapete che in genere noi non invitiamo i politici, oppure se li invitiamo li intervistiamo come parano noi, va bene? Si può? Magnifico. Silviano Cordoni che è il capogruppo dell'Italia dei Valori, che noi avevamo invitato per una cosa, di cui parleremo. Però poi ieri, leggendo i giornali, c'era invenuto in mente un altro, può capitare, no? Buongiorno. Allora Silvia, per favore, si spieghi, perché io non l'ho capito, per colpa mia, eh, né dei giornali, né dei giornali, ricordo anche la tua intervista, in cui ho detto, si va bene, astù, insomma, è una cosa di questo tipo che non si fa più, eh? Parliamo di stazione, quindi. Sì, io voglio sapere, mi spieghi il progetto della stazione com'è? Con calma, senza fretta. Come vanno i treni sulla telemogiorna, è piano, quindi va bene. Perché per conoscere bene... Perché tu me lo vi mette sulla politica. No, 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 sulla storia. Tu mi fai una cosa, racconti il progetto e poi fai tutti i commenti che vuoi, ma fammi capire che cosa accade lì. Sì, esattamente, è una cosa molto semplice, perché, intanto, uno si può domandare perché questo interesse da parte di Siriano Cordoni nei confronti di questa, della stazione ferroviaria, no? La cosa viene da lontano, dal 94, quando come associazione culturale in Spogliorama facemmo una bellissima conferenza stampa a cui parteciparono illustri personaggi, no? Tra cui Adriano Cioci, che è il massimo esperto di ferrovie del Meridione. quel giorno, noi facciamo un discorso dal punto di vista culturale, esclusivamente culturale, però venne fuori l'importanza del rilancio della tratta Teramo-Giulianova che voleva essere chiusa. Esatto. Vi ricordate? Ramo secco. Sì. In seguito a quella conferenza, a quel dibattito, il ramo secco non fu tagliato e fu perfino elettrificato. Quindi siamo arrivati all'elettrificazione della Teramo-Giulianova. E le ferrovie sono soddisfatte anche dei risultati. Quindi tutto è nato da quel... Sembra paradossale, ma un convegno ha cambiato, no? Poi cominciò il dibattito a Teramo se prolungare o non prolungare l'arrivo della stazione verso il centro storico. Il problema qual è? Il sottoscritto è sempre stato perplesso, non dico sulla importanza di questa idea di prolungare la ferrovia, perplesso sui fondi necessari per avere un'ipotesi del genere. Si parla per prolungare la ferrovia da lì a Piazza San Francesco di una cifra superiore agli 80 milioni di euro attuali, 100 milioni di euro. Che ci voleva un altro ponte? Ma ci voleva un altro ponte, doveva passare a due metri dal parco fluviale. Cioè è una cosa, secondo me, irrealizzabile. Irrealizzabile. Allora, da buoni amministratori, uno deve fare dei progetti concreti, realizzabili, attinenti alla realtà territoriale. Allora, ero vicepresidente della provincia, andai a... Presidente era? Ruffini, Claudio. Apri un dibattito con le ferrovie dello Stato e andai a Pescara e proposi, invece di fare questa ipotesi di prolungamento, proposi un lieve arretramento dell'arrivo della littorina. Ma quindi tu sei all'origine di tutto. La prima idea è stata vostra. La idea è stata vostra. La prima idea è stata vostra. Quindi tu non solo non vai avanti, ma torni indietro. Sì, ma a 50 metri. Perché in effetti è vero che se si fosse... Allora, altre... Possibile arrivare al centro sarebbe stato veramente un rilancio mondiale. Mondiale, però aspetta, aspetta. Perciò ti dicevo, dammi tempo. Allora, a quel punto è... Altra priorità è anche recuperare l'area della stazione ferroviaria o del quartiere stazione, del quartiere Gammarana, che ha una necessità di essere riqualificato. Non c'è nella stazione, nel quartiere stazione parlo, di una piazza o di un luogo che identifichi tutto il quartiere. Che potrebbe essere l'area intorno alla vecchia stazione. Facendo arrivare 50 metri prima, appena 50 metri prima, l'arrivo del treno, lì dove sta attualmente lo scalomerci in disuso, dove sta la gru che è servita per scaricare il materiale del trafordo del Gran Sasso. Ah, comincia a capire allora. Allora, basta arrivare lì, 20 metri prima. Allora, lì c'erano i binari, perché Teramo prima era servito anche dal treno merci, che poi in secondo tempo venne spostato, si fece a Sant'Atto, il piazzale ferroviario per le aziende, poi non ha funzionato più nemmeno quello. Non ha più funzionato. E lì è un'area abbandonata. 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 Ah, va bene. Basterebbe farla arrivare 20 metri prima da dove arriva attualmente, no? Lì ha quella casetta in disuso che... Per battere pure. No, no, quello si potrebbe pure recuperare. Recuperare, no. Beh, sì, io ci sono andato a fare... Io poi la conosco a memoria. Ah, benissimo. Come te, mi piace, perché sono appassionato di treni. Allora, ho visto come è adesso. Eh, lì, non so, basta fare un progettivo. Dove c'è la casetta dove passa il binario sotto. Sì, c'è il binario sotto. Dove veniva ricoverato un tempo le locomotive. Esatto, esatto. Basterebbe farla arrivare lì. A quel punto si recupererebbe automaticamente, senza spendere una lira, tutta l'aria intorno alla vecchia stazione, che potrebbe essere adibita a piazza, a verde, al luogo d'incontro, al centro della nuova città. Ma quindi tu dici dove sono attualmente i binari? Sì, i binari, vendrebbero quei binari che sono lì a ridosso... E almeno due ce ne vogliono, eh? Sì, no, ma arriverebbero lì dove arriva, dove sarà lo scalomerci, no? Capi, lì. Eh, punto, lì. Dove sono adesso tutti i binari? Beh, lì si recupererebbe, esatto. Quello è? Beh, sì. Tutto questo è? Sì, sì, è semplice. Sì, infatti, basta... Basta che parla di italiano, però. Beh, però è importante che l'interlocutore voglia pure capire, perché se l'interlocutore non vuole capire... Io ripeto, è un mio limite, ma non l'ho capito manco dai giornali, ho letti tutti, non... E poi, ecco... È semplice, vero? No, sì, perché conosco la zona, tra l'altro. Conosci la zona? Non si spenderebbe nulla, no? Pochissime cifre. No, in convento ci sta tutta questa bella piazza davanti alla stazione. Esatto, esatto. Senza fare progetti faraonici, no? Eh. E via di seguito. Questa è la nostra proposta che io feci allora, e poi arriva la giunta Chiodi, no? E qui subentra un po' l'aspetto politico, perché si va a collegare con un progetto che nel 2006, è incollegato con il nuovo piano regolatore, la giunta Chiodi ha proposto la cosiddetta STU, società di trasformazione urbana, che prevedeva un investimento nell'area della stazione di una cifra di oltre 80 milioni di euro, facendo... Per farci un albergo, 120 appartamenti, l'interramento, ovviamente interrando la stazione, ovviamente che l'arrivo del termine doveva essere ugualmente spostato, no? Perché devi cominciare a deviare, no? Eh sì, perché se no... Se no non va a passare, è ovvio, no? Quindi con la STU si sarebbe ugualmente arretrato lì nell'area dove dico io, però con un investimento di oltre 80 milioni di euro, cosa che è impossibile, no? Ma invece, ma su questo progetto siete tutti d'accordo? Ma io sono... Vabbè, questo adesso l'amministrazione comunale... Con voi sfondo una porta aperta, ma... Con me sfondo una porta aperta, questa è un'ipotesi oramai vecchia. Ma quello che mi rammarica dal punto di vista politico è perché quando si fanno queste proposte concrete, l'opposizione, in quel caso, in quel caso era Gianni Chiodi quando lo proponevamo, o la maggioranza quando diventò maggioranza, non sta ad ascoltare chi propone delle cose serie. Allora, roboanti, fecero delle promesse roboanti, facciamo 120 appartamenti, rilanciamo Teramo, facciamo l'albergo. Io dicevo guardate che i soldi, i soldi ci vogliono i soldi per fare una cosa del genere. E adesso passano, tenendo presente che la Stuno non prevedeva solo questo, prevedeva anche altri due insediamenti... D'altre zone. D'altre zone, particolarmente impattanti. Allora, è un rapporto interessante che si fa questo che dici tu, questo va bene. Ma questo è bello, sì. Questi sono tutti contenti, la piazza. Sì, la piazza, luogo di incontro, il termine... Visto che conosci bene la stazione di Teramo, lì dove sta il termine, a fianco c'è un'area di risulta enorme, dove potrebbero arrivare gli autobus. Finalmente, sì. E quindi uno scende... E che era la vecchia cosa che si doveva fare. Ecco perché poi questo treno non decollava. Che in arrivo del treno c'è un bus che portava al centro. E questo non si è mai fatto. Mi fa piacere, Francesco. Non si è mai fatto. Ma facendo quella ipotesi lì, semplice, che adesso mi sembra che l'attuale sindaco... Facendo retromarcio, come al solito, facendo retromarcio... Retromarcio, c'è il treno, infatti deve tornare indietro qualche posto. Mi sembra... Ma non sei d'accordo, anche se retromarcio basta che si fa, eh? Sì, io sono d'accordissimo. Ma l'avete fatto capire finalmente, colpa mia, eh? Dopo 15 giorni. Quindi non ci sarà una rivoluzione? No. Se fanno questo progetto, da quanto ho capito, che è il progetto che si proponeva... Teoricamente non è che sia il re della stazione, l'edificio sembrava che si poteva... Ma no, ma no, chi vuole che tocchi una stazione di un'importanza storica straordinaria? Anzi, l'edificio della stazione verrebbe valorizzato perché entrerebbe al centro della nuova città, tenendo presente che la città si sta trasformando. È quasi un paradosso che quando l'hanno costruita, la stazione, nel lontano, nel 1984, quindi oltre 100 anni fa, non arrivarono al centro perché mancarono i fondi e quindi erano i margini. Adesso la città si sta spostando verso San Nicolò. Verso i margini si sta spostando. Paradossalmente, quello che era una volta la periferia della città sta diventando il centro Quindi io quando vengo qua posso arrivare là io adesso, con il treno a scendere, è più vicino adesso la fermata rispetto alla televisione. Posso fare una passeggiatina a piedi. 50 metri, dal punto di vista calorico non è che ti cambierà molto. Questo era l'argomento e ora l'abbiamo capito. Però ieri poi abbiamo detto un'altra cosa. Infatti io ti ringrazio perché nessun ospite ormai lo sa mi chiede prima quello che devo chiedere. E tu non mi hai detto, per di venire va bene. Perché poi ieri abbiamo, comunque abbiamo capito la stazione e rimane tutto là. Mi fa piacere che... Si sono contento. Perché era quello, quell'area abbandonata, tutto erbaccio ci stanno. Sì, tutto erbaccio. Lì ci si fa un bel piazzale degli autobus. Si può recuperare anche, facendo in questa maniera, si apre una nuova strada. Lì dove sta attualmente il distributore di benzina. Ah, quella fuori. Sì, quella fuori. Fuori dell'area. Lì, lì fuori. Dove c'è il distributore di benzina. Il distributore si può anche spostare. Si potrebbe aprire una strada che ricollega la Villa Roi, l'area della Villa Roi, l'area della Gammarana con Viale Crispi. Anche quello è semplicissimo. Senza grandi cose. Senza grandi cose. Arrivando a quello che noi vogliamo. Cioè all'integrazione tra trasporto su ferro e trasporto su gomma. Bene. Vecchio sogno. Vecchio sogno. Di farla arrivare lì alla stazione. È là. Era tanto semplice. È talmente semplice. Invece arriva al tribunale. Sì, al tribunale. Gira al tribunale. E basterebbe farla scendere via Pannella. Poi girare a destra davanti a Taraschi. Vabbè, ma è così succede. Si farà allora. Io mi auguro di sì. Vabbè, non costa molto. Allora, stavo dicendo che questa era, doveva essere l'argomento principale. Ma invece ieri, tu lo conosci un certo Carlo Costantini? Carissimo amico. Amico, cos'è? Che incarico c'ha? In questo momento il capogruppo regionale è il mio alter ego. E che cosa ha detto ieri? Ieri ha detto una cosa molto importante. Terribile però. No, terribile nel senso che è grave, fa rifletti. Io non so se sui giornali ci sono reazioni. Non li ho visti ancora. Io non lo so. Che cosa ha detto? Ha detto una cosa molto forte. Eh, appunto, molto forte. Molto forte. Ha detto che qui... Ci sono reazioni? Sì. Ha detto in una maniera molto forte che qui a Teramo c'è un minimo di distrazione su alcuni personaggi che fanno politica che pur essendo inquisiti vengono premiati per il loro impegno politico. Non è una frase facile, eh ragazzi? Non è una frase facile, no. Però è una cosa che fa riflettere. Insomma, quando un politico è inquisito, vedo che sia opportuno tirarsi leggermente da parte e dare tempo e dare tempo alla magistratura di fare il proprio dovere. Abblora, sì, ma dovrebbe farlo rinquisito. Però non si può essere premiati perché si fa politica. Per fare il suo lavoro, il giudice non glielo può impedire. Ascolta, no, no, aspetta un attimo. Qui la riflessione che faceva Carlo è che chi fa politica in questo momento, per meriti politici viene premiato dal pudista professionale. Ah, è questa l'altra cosa. È questa. Ma il giudice che c'entra allora? In questa frase che dici tu, il giudice che c'entra. C'entra che dovrebbe fare... Cioè, c'entra... Che ti può impedire di essere... Quella è la politica che interviene. Sì, è vero quello che tu dici, c'entra e non c'entra. Però Carlo Costantini faceva riflettere sul fatto che la magistratura dovrebbe essere più attiva nei confronti di queste persone sulle quali pende una sorta di mannaio, una sorta di indagine, insomma. Non una sorta... Perché a Pescara qualcuno già avrebbe avuto uno. Perché gli stessi... Lui faceva riferimento. Gli stessi reati a Pescara la magistratura interviene in maniera più pesante. Più pesante. Ha fatto questa distinzione fra una magistratura, secondo lui, attenta, più attenta a Pescara e un po' distratta a Pescara. Lo sapevate che avrebbe detto questo? Vi ha avvisato? Non necessariamente puoi rispondere. No, no, no. O se ne avete parlato tra di voi, magari qualche volta. No, noi siamo abbastanza... Noi dovevamo fare... Abbiamo fatto la conferenza stampa facendo una riflessione ognuno per il proprio ruolo, ognuno per il proprio campo. Io e Valdo di Bonaventura... Sì, sì, per capire che c'è anche la musica. Eh sì, va bene. Io e Valdo di Bonaventura, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, abbiamo puntato l'attenzione sul fallimento della società di trasformazione urbana, quello che stavamo dicendo. Di cui parlavamo prima, sì. Di cui parlavamo prima, questo fallimento. Sacco e Riccardo Mercante per il livello provinciale e Carlo Costantini per il livello regionale. Insomma, quindi ognuno nel proprio campo. Ci mancherebbe... Ma ciò la pensi come lui? Che ci sia una forma di distrazione, di disattenzione, può essere plausibile, sì. Sì, la magistratura è più attenta ad altri reati che non quelli per i quali a volte viene chiamato in causa. Faccio riferimento, è un riferimento puramente occasionale. Il sottoscritto ha fatto diverse denunce due anni fa in Consiglio Comunale per la TEAM, poi sono passati veramente due anni, due anni e mezzo, prima che altre procure facessero indagini più approfondite. Cioè, conoscevate già quello che succedeva al Sud, sì? No, 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 questo non lo conoscevo. Questo no? Assolutamente, no. Io sostanzialmente sostenevo che in base a dei dati, dal punto di vista studiati, approfonditamente, uno va a leggere... Uno va a leggere, c'è, esatto, va a leggere le carte, ci si rende conto che qualcosa in quella società non andava bene, c'era qualcosa che non quadrava. Io non faccio il giudice inquirente, io faccio il medico, quindi posso semplicemente dire che... Medico di che, preciso? Come? Medico come? Medico di vicina generale, medico di base, sono un medico... La mia attività professionale è quella di curare i miei cari pazienti... C'hai tutto, sei pieno? Beh, sì... Come si... Massimalista, come si dice? Sì, sì, medico di base. Pure Giovannozzi c'hai? Sì, anche Alfredo. L'hai guaribile, vabbè, quindi... Quello è inguaribile, no. Quando si ammalerà? Ma spero a 105 anni. A 105 anni è probabile che si ammalerà, eh? Beh, sì. A 105 scommetto una cena che lo andrò a curare. Ma si ammalano quelli che lo ascoltano, ma adesso poi toccherà, perché inevitabilmente prima a lui potrà succedere. Allora, poi però vi dicono che siete un buon partito forcaiolo. Ma, guarda... Come il fatto di costruire... Sì, questa è una bella domanda. Quello che è successo adesso, voi eravate in serra, vi siete arrabbiati da... Questa è una bella domanda. Che significa essere forcaioli? È in galera, ecco. No. Quella si può. Di Pietro è un buon emblema del pubblico ministero. È il partito della legalità. E la legalità è il modo per tutelare i più deboli. Che è una bella frase, che la butti lì così. No, non è una bella frase. La legalità è il modo di tutelare i più deboli. Sì, immagina, no? Immagina, pensa... Sì, sì, per capire. Immagina, pensa una società senza leggi o senza il rispetto delle leggi. La legge più forte varrebbe. Varrebbe più forte, esatto. Dal punto di vista economico, dal punto di vista del potere. Ma voi però se potete, lo volete arrestare. Chi? No, io non devo arrestare nessuno. No, tu, però insomma, nel caso l'ultimo. No, è il rispetto della legge. No, se ci sono le leggi, le leggi vanno rispettate. È giusto, il caso Cosentino è giusto. Se le leggi non vengono ritenute sbagliate, le leggi vengono cambiate, devono essere cambiate e quindi si entra nel rispetto della legge. Il senso del rispetto della legge è il senso di una società civile, insomma. Una società senza legge è una società anarchica. Lo condivido, lo condivido totalmente. Ma vuoi arrestare? Forca io lo... Tu non vuoi arrestare, vettete. No, non vuoi fare. Sai qual è il problema? Lui che si dimetta da quello che fa, almeno già questo sarebbe una cosa, se si tratta di un politico, no? Sì, si dimette, che non dovrebbe essere premiato. Premiato come accade. Sì, non dovrebbe essere premiato. Ma Costantino ha fatto anche dei nomi, dei casi che conosciamo. Ognuno fa proprio... Però lui li ha fatti. Lui li ha fatti, io... Però, secondo me, da quell'attacco ci rimette di più la politica, più che i giudici, mi pare. Che, insomma, arrestare... Sì, ma... Cioè, io sono inquisito, nel frattempo mi faccio la parte e poi quando tutto si risolve vediamo come va, è così. Cioè, non deve essere... Il modo per fare carriera nel mondo della professione non deve passare tramite la politica. Uno deve fare la politica per passione, come dico io, non per professione. Non può essere che, siccome faccio la politica, poi vengo premiato e divento dirigente o divento responsabile di un'azienda. Cioè, la qualità professionale deve essere valutata indipendentemente dalla politica. Questo è vero, non c'hai mai avuto niente, un'avvisi garanzia, niente. Tutto un po' no di cosa succede. A me mi hanno rubato dei soldi, questi sì. Sono vittima di un... Ma sì, di che? Sono vittima, io sono scritto. Sono di un purto. Beh, vabbè. Una truffa. Una truffa. Prima o poi arriverà... Al giudice. Al giudice è arrivata, ci sarà il processo. Beh, speriamo. No, sei vittima se ci sta. Sono vittima, più che... Sono una... Proprio perché è tremendo impegnato. Sì, qua si vota tra due anni e mezzo? Due anni e mezzo, sì. Se fanno una domanda, non vuol dire dire, ma ci stai. Se si votasse domenica, come state messi con l'opposizione? Avere qualche speranza? In opposizione, attenzione, stiamo facendo un percorso... Mi fa piacere questa domanda perché rientra... Io vedo tanto che fate conferenze, è una persona attiva, vedo, molto attiva. Sì, attenzione, sono molto, molto orgoglioso, veramente, di quello che stiamo facendo a Teramo come centrosinistra, perché abbiamo dato origine, credo prima in Italia, a un nuovo modo di fare politica. Abbiamo messo su il laboratorio del programma... Che può sembrare una cosa teorica, però... Che può sembrare una cosa teorica, però... Che può sembrare una cosa teorica, però... Cosa significa il laboratorio del programma? Contattare i cittadini, contattare i cittadini indipendentemente dalla loro sensibilità politica, ok? È ovvio che dopo vengono ai nostri incontri più quelli che sono ispirati a una politica di centrosinistra, però... Noi vogliamo incontrare... Ma già qualcuno che viene per curiosità, non ci sa mai, può essere... Vogliamo incontrare i cittadini per costruire il programma insieme a loro. Non capito. E abbiamo messo in secondo ruolo, in secondo piano, i simboli politici, eh? Attenzione, non è una cosa... Non andiamo lì come IDV, o come PD, o come Rifondazione Comunista, o come SL, e via di seguito. Andiamo lì come laboratorio. Noi ci presentiamo disgiunti dalle linee politiche... Disgiunti? Sì, disgiunti dalle linee politiche. Ma che fate con l'Udc? L'Udc? Anche questo ci siamo posti come laboratorio. Ce lo siamo posti, sta domanda. Certo, con Martina, con Dodo, niente da fare. Ma no, perché niente da fare? Se noi facciamo il percorso del laboratorio, loro faranno una loro ipotesi di... Un laboratorio fa. Sì, una loro ipotesi di programma. Se dopo i due programmi possono convergere, noi non abbiamo preclusioni. Cioè dall'Udc a Rifondazione, un po' troppo. Rifondazione non ha messo una pregiudiziale esticte e semplicite. Ha detto che se ci sarà l'Udc, loro non appoggeranno direttamente una coalizione di questo genere. Sembra logico, no? L'Udc, insomma... Però è un problema dell'Udc. Noi non possiamo stare a pensare all'Udc. No, 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 dovete pensare a voi. Comunque state già lavorando e ci manca tempo. State già lavorando. Due anni e mezzo prima. Non era mai successo. Non era mai successo. E non lo vogliamo. Questo è un impegno che abbiamo preso come gruppi consigliari, come impegnati in politici. Ti dico una frase forte, perché immagino che ti stimolerà. Non vogliamo interferenze esterne nella scelta del programma, nella scelta del percorso politico. Nella scelta del candidato. Nella scelta del candidato. Faremo le primarie. E' un impegno che ci siamo presi. Allora, siamo noi che giochiamo. Siamo quelli che stanno facendo questo grande lavoro. Dal PD a Rifondazione, ai DV, a SEL. E vogliamo che la nostra città venga decisa dal livello, da noi. Da quelli che in questi anni stanno facendo politica, mettendoci la faccia, nell'interesse della città. Tu potresti essere candidato? Io l'altra volta già avevo sollecitato le primarie. Io credo che le primarie siano il metodo più democratico per scegliere un candidato. Hai girato sulla risposta? Ho fatto domanda? No, no, no. Non girato, assolutamente. Potresti? Io mi candido alle primarie. Ecco. No, 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 ma lo stavo dicendo. Io già l'altra volta dico volevo le primarie, a maggior ragione. Ma immagina quanto sono belle le primarie, no? Votano tutti, tra l'altro. Votano tutti. Mica quegli iscritti, ognuno può venire. E abbiamo preso un altro impegno, attenzione, nel laboratorio. Che chiunque si candida nelle primarie, poi si deve candidare nella lista. Deve dare un ulteriore contributo. Abbiamo fatto il laboratorio. Lo prevede. Lo prevede. Per cui già non mi hanno eletto, quello si disimpegna. L'impegno è che si debba candidare e portare il proprio contributo. Immagina l'altra volta. No, l'altra volta io volevo fortissimamente le primarie. Avevo fatto già diversi incontri. Poi interferenze esterne hanno vietato le primarie. Basta con interferenze esterne. L'avete detto tutti quanti, ne? Io spero che non ci sia un'interferenza esterne. Allora, tu c'hai una casa sulla costa? No. Vai al mare? Sì. Dove vai? A Roseto. Ecco, perché a Roseto? E non a Giulianova? È bella questa domanda. Perché? Beh. Ecco, la do così, per curiosità. Perché vado a Roseto? Giovanni, non essere felice che va a Roseto. No, va da Roseto perché come medico di base... Non è torsoleto lui. No, io andavamo a Roseto quando eravamo piccolini perché andavamo in un residence di Roseto. E perché andavamo in residence a Roseto? Perché eravamo piccolini. Perché nel residence non incontravo neanche un terramano. Allora, pur essendo a 20 km da Teramo, mi permetteva di poter essere... Tranquillo. Tranquillo e beato. E allora andavamo in questo residence. Da che età? Piccolino. Piccolino i bambini. Quindi portavamo i bambini al mare in questo residence. E quindi adesso non c'è la casa? No, assolutamente. Nemmeno in montagna? Neanche in montagna. Quindi fai il pendolare quando vai? Sì, ma è la cosa più bella, visto che Teramo ha 20 km. Ma è una strada, eh? Fa benissimo questa strada. Ma sì, è perfetta. La Teramo mare è una cosa meravigliosa. Ma beh, insomma. Quindi non hai... Fino a settimana dove lo passi in genere? Domani? Che fai? Domenico. Domani e domenica sono a casa quasi sicuramente. Devo andare a casa a vedere la televisione. Domenica inno, tutte quelle cose, quelle palle. Mi diletto adesso sto... La mia associazione culturale mi prende abbastanza. Facciamo dei piccoli incontri, piccoli studi. Stiamo verificando... Sto portando avanti uno studio su un autore del Cinquecento. Cinquecento, è una cosa molto interessante, che è stata presentata, è stato presentato due anni fa a Arro, a L'Aquila, in collaborazione con la Carispac. Abbiamo, come associazione culturale, abbiamo ridato a L'Aquila un suo autore che per loro era sconosciuto, un certo Arcangelo Tuccaro, che nel 1598 scrive il primo manuale di ginnastica medica. E capete, di ginnastica, e la Carispac ne ha fatto una pubblicazione particolarmente importante insieme a Walter Capezzali. Sì, collega dell'Aquila. Sì, insieme a Walter abbiamo fatto questa cosa meravigliosa, però il volume è talmente importante che non è stato divulgato. Non ha avuto una eco-divulgativa perché è particolarmente importante. Ne faremo una edizione, vorrei fare un'edizione più divulgativa nello spirito dell'associazione Poliorama. Bene. Mangi molto? Si vede? No, chiedo. Perché sta chi ha simile, chi non ha simile. Sto genere di stamagra, ma mangia... Io faccio il medico e direi una bugia se dicessi che non... Ti piace? Che non sono una buona forchetta, sono una buona forchetta. Cioè, quando ti invitano fai onore, tutti contenti, sono soddisfatti. Ma, insomma, non neanche tanto, insomma... Bene, grazie, lui è, non era, Silviano Cortone, abbiamo parlato di... Però abbiamo parlato bene, no? Sì, tutto, abbiamo capito il treno finalmente che succede, sono d'accordo perché, ripeto, conosco bene quella zona. Mi fa piacere, sei il primo che... È il primo, eh. In un... Uri Giulianovi deve dire che va bene, no? Eh, ma vabbè, ma qua qui... Non mi preoccupavo del ristorante che sta là, che quando fa la pubblicità dice il treno che arriva, si vede il treno, quello non lo vedranno più. Anzi, avrebbe uno spazio... Tutto avrebbe, questo è raccontento quello. Ma credo di sì. Dovrà cambiare lo spot, che non vedrà più il treno che arriva, ma arriva 50 metri. 20 metri. E ho capito, sì. 20 metri prima. Grazie. Scusate, che c'è adesso? Si canta o c'è la pubblicità? Canta lui già? Sì? Bene, buongiorno. Scusi? Beh, sul suo momento, perché suonavo già prima. Lei non ha canzoni che hanno a che fare col treno, vero? No, non ho il treno. Niente, partenza, arrivi, addi, bentornato, no? Torna a casa mamma, niente. Qualcosa? Per esempio? Andrea. Andrea? De Andrè. De Andrè. Che cosa? Andrea. Ah, Andrea si è perso. Andrea. Ma poi lo ritrovano? Non lo ritrovano, mi sa. Ti piace l'Andrè? Tantissimo. È un poeta eccezionale. Poeta è... Paolo Spiega, poco tempo fa ha fatto un'interpretazione corale, l'interpretazione dei brani di De Andrè, meraviglioso Paolo. Con il coro a Civitella è stato un concerto, uno dei più bei concerti. Ti puoi invitare Paolo, il coro era molto ampio? Sì, molto ampio, bellissimo, un'interpretazione magistrale. Sì, sì. Sì, ho capito, conoscete Paolo Spiega voi? Ti puoi invitare col coro? Sì. Verrebbe? Beh, non ce lo dicono questi, ce l'ho avuto di Siriano. Ce l'ho dire io. Allora, prima che suone facciamo uno stacco pubblicitario, così sì, ci possiamo appunto, ci lasciamo consigliare. Grazie. Andrea. Si è perso, si è perso, si è perso, e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso, e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva un dolore, riccioli neri. C'era scritto sul foglio, che era morto, sulla bandiera. C'era scritto la firma, che era d'oro, che era a firma di re. Ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Occhi di Bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese. Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara. Andrea in bocca, un dolore, la perla più scura. Andrea raccoglieva, raccoglieva violette, sui bordi del pozzo. Andrea gettava, riccioli neri, nel cerchio del pozzo. Il pozzo è profondo, di un fondo del fondo, negli occhi. Lui dice, mi basta, mi basta che sia, più profondo di me. Lui dice, mi basta, mi basta che sia, più profondo di me. Lui dice, mi basta, mi basta, mi basta, mi basta. Lui dice, mi basta, mi basta, mi basta, mi basta, mi basta. Forse. 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 signora, l'altra volta avete sentito, abbiamo invitato con noi l'avvocato Trippetta di Teramo per parlare della vicenda del convento, padre Carmine Serpetti, don Marco Tredisonne, tutto quello che sta accadendo. è che la signora c'entra perché don Marco non dice che non potendo fare tutte le funzioni pastorali all'interno del convento, perché padre Carmine si sarebbe preso tutto, anche se qui l'avvocato lo ha smentito, ha chiesto al comune di Giulianova di poterlo soffrire dei locali dell'ex scuola elementare di Casa di Trento. e il comune di Giulianova all'unanimità con una delibera, non so se ci mancaste un assessore, non ho visto la delibera, però so che c'è, non ho visto chi mancava, ha deciso di dare tutta la scuola, tutta la chiesa. Alla chiesa. Alla chiesa. L'abitazione centrosinistra ha deciso di dare tutta la chiesa. E tu? E io me ne vado. E tu? Di lotta libera e greco-romana. Premiata più volte allo stesso comune Giulianova. Sì, sì. E festeggi il 14 gennaio, 25 anni di attività, dovete sloggiare, smammare, vero? Questa ancora sei da vedere. Ah, c'è una battagliera? Sì, perché io ho parlato col sindaco e il sindaco... Scusi, la signora Damiana Pinna. È il presidente dell'Atletic Club Giulianova. E in più sono anche il delegato della federazione, la presidente della federazione Alconi. Quindi tutte le società di lotto, di karate, di judo, le rappresento io. Devi sloggiare. Sì. Allora, diciamo anche le cose... Io ecco che cose che mi manca. E ho sbagliato, ho fatto con giornalista. Mi manca la lettera con la quale Don Marco, chi per lui, ha chiesto al comune i locali. Ce l'ha? No, io non ce l'ho, no. No, perché voglio sapere per che cosa gli serve. Eh, gli servono per le sue cose pastorali, per ciò che fanno, insomma, nelle parrocchie. Cioè, che fanno nelle parrocchie? Beh, che cosa fanno? Non lo so, diciamo. Fanno catechismo, fanno attività. Ma al convento gigantesco si può fare? Allora, là è un problema suo al convento, penso che sia. Perché io sono andata a parlare con Don Marco, che è il nostro parroco. Ah, si è parlato con Don Marco. Sì, ma tra l'altro è il nostro parroco, perché, insomma, fa le nostre funzioni religiose. Anzi, stasera c'ho proprio una messa con lui. E quindi... Una messa con lui? Una messa per mia mamma, insomma. Ah, ecco, una messa di ricorrenza. E che ti ha detto Don Marco? E Don Marco ha detto, me l'hanno promessa. No, no, l'hanno deliberato, no, promessa? Sì, però lui dice, me l'hanno promessa, adesso non vedo come mai, perché il sindaco gli ha telefonato e ha detto di dare tre stanze a noi per collaborare anche in altre attività che non siano quelle attività sportive. Non si sa come va a finire, però. E lui dice, no, dice a me, hanno promesso tutto. Mi serve tutto, ha detto. Mi sembra una cosa strana questa, perché non gliene avevano mai parlato. Gli ha detto che andava tutto bene, ma quante stanze sono? Eh, tantissimo. Quella è una scuola... Ma se è stato là non l'hai contata nel tempo. È una scuola che significa che è grande, non potrebbe essere piccola. Era una scuola di una frazione. Di una frazione, però c'ha due piani. Due piani c'è la direttore. Allora io ho proposto a Don Marco, ho detto, noi possiamo fare anche delle attività insieme, visto che noi facciamo molto sociale. Voi siete bravi per la solidarietà. Per molto sociale. La famosa un dono per un sorriso. Noi possiamo fare del sociale, cioè possiamo fare anche attività che sono musica, cose per i ragazzi, eccetera, eccetera. E che hai detto a Don Marco? Don Marco dice, io non so, non credo in queste collaborazioni. Don Marco vuole tutto. Vuole tutto. Penso che sia così. Comunque il 19 andremo dal sindaco. Il 19? Il 19, quindi... Praticamente dopo che avete festeggiato. Allora noi oggi facciamo 25 anni di attività. Oggi ne abbiamo 14. 14. Complimenti. Le nozze d'argento con l'atletica. Durante tutti questi anni... Poi ti devi commuovere perché io parlo di tuo marito, Monzi. Se non ti commuove ti caccio. Allora, perché Ruggero... Ecco, già, fai vedere? No, no, no. Perché ogni volta che dico Ruggero... Eh sì, perché è stato... Il marito ha fondato in realtà. E quelle medaglie che vedete sono tutte sue. Una originale che non si dà quasi a nessuno. Qual è quella? È la stella d'oro del Coni. È la più grande onorificenza che una società o un dirigente possa ricevere. Quindi come dire che è una cosa importante. Quella è una medaglia che ti permette di entrare allo stadio, ti permette di essere iscritti in quest'albo che pochi nella regione Abruzzo... Dove pochi nella regione Abruzzo ci sono. Ed è stata la più grande onorificenza che mio marito e la società abbia potuto ricevere. Poi ci sta anche la stella d'oro, la stella di bronzo per la società. Poi ci è stata data anche una medaglia d'oro dalla nostra federazione. Una medaglia d'onore, si dice, per la nostra federazione. Mio marito amava portare queste medaglie ogni qualvolta si faceva qualcosa al comune di Giulianova perché il sindaco di Giulianova aveva inteso dargli una targa anche in questa occasione... Ma poi avete avuto un campione del mondo o d'Europa? A Bordeaux, in Francia. Sì, lo so dove è vero. Un campione d'Europa. Da Scania. La prima volta che con la tuta azzurra, degli azzurri, è partito. Noi non è che partiamo, andiamo e vinciamo. Noi dobbiamo fare delle selezioni, vengono fatte nella nostra... Lo so, scusa, è fuori programma. Puoi venire tu un attimo? Sì, tu, un secondo, vieni, vieni. Lo so, è tutto fuori programma qua. Mi odieranno i tecnici. No, non deve parlare. Vieni ragazzo, vieni. Ma lo guardo? Sì, però passa di là, di là. Così non passi davanti alla telecamera. Non deve parlare. Tu devi soltanto... Poi parlerai. Guarda, sediti. Questo lo devi riguardare, però. L'arma, ecco. Ti vede l'arma? Ecco. Non è che tu, ma quelli che ti fanno male, le hai portate questo, vuoi ucciderli con questi qua? No, ma noi non... Non sei per la violenza, tu? Noi siamo... È uno sport olimpico il nostro. No, ma questo, con i tuoi nemici, questo vi fa... Eh, fra poco. No, non ti sei, non lo vorrei, non sei per la violenza. Io no, io sono per il ragionamento. Per vedere, di trovare un accordo. Ma questo uccide? Non uccide. Non uccide. E allora che portate? Scusate, non serve. Vabbè, poi ne parliamo. Perché poi c'è l'ultima frase, l'ultima fase con un'esibizione straordinaria, eh. Con questo pure si riferirà, vabbè. Ma non puoi parlare tu, perché anche se parli non ti senti, però fai con un cenno con la testa. Fate parte della palestra di Giulianova? Sì. Quella di Luigi Noiobbi? Sì. E questa è una sciabola? No. No. Fammi capire come si chiama? La parte. La? La parte. La parte. Sì, l'ho sentita dirgli alla parte. Che fa? Vabbè, dopo me lo dice, eh. Tu sei lì dove sei? Notaresco. Notaresco, vabbè. Vabbè. Quindi non ti serve. Tra l'altro manco uccide questo. Però tu hai detto che sei per il dialogo. No, no, no. Allora facciamo un appello a Don Marco. Don Marco, in nome della solidarietà cristiana. Ecco, bravo. In nome di Dio. Che a Giulianova ci preserva dalle alluvioni, perché i politici non hanno speso nemmeno un euro per gli argi del Tordino e del Salinello che possono esondare. Sì. Noi vogliamo dialogare. Noi vogliamo dialogare. Tu ti accontendi di due, tre stanze. Però ti hanno accusato di una cosa di cui ti devi difendere, perché sennò dice Marcotti Amico, della Pinda. No, 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 no. Dice che tu nel frattempo, quando se l'avete avuto, perché da quando è che ce l'avete voi quei locali? Dal 96? Da Gerardini. Da Gerardini, poi tutti i sindaci che... Anzi, voi avete partecipato. Partecipato un attimo, perché se si può trovare una soluzione, io lo so se è possibile, lo so, vi vedo, che ce l'avete con me, che è un po' esagerato. Non si può fare nulla. Tu, Giovanno, tu sei il direttore che ci piace a tutte l'ora e trova una soluzione. E lo so. Togliamo il musicista, spostiamo il musicista. Perché vogliamo fare le cose che a volte, per colpa mia, sono più grandi di quello che possiamo fare. Però ci piace quando guarda la labarda. E' stata mai una televisione tu con la labarda? No. Allora, vogliamo tre stanze noi. Basta, no? Però dice che tu hai costruito dentro un soppalco e anche una sauna. Ma che c'entra la sauna? E' poggiata là. E' poggiata. E' quella per i ragazzi per dimagrire, perché quando si fa una gara bisogna raggiungere un certo peso. Quindi in ogni caso era... Non ho capito. Era un qualcosa legato... All'attività sportiva. All'attività sportiva. Se no tu, se non c'è il peso, la categoria non può essere stabilita. Sì. Noi, questo è uno sport importante. Quindi tutte cose fatte a vostre spese, però. Certo, è uno sport importante, è uno sport serio, è uno sport olimpico. Io questo ci tengo a dire. Non è che sono... Noi per andare a un campionato italiano dobbiamo superare le selezioni, devono fare gli stage al centro olimpico. Ma fa bene che non giovedete più quella palestra. Dove va allenata? Adesso a Roseto, l'anno scorso, siamo stati a Cepagatti, andiamo presso i vigili del fuoco di Ascoli Piceno. Eh, non è semplice. Non è... E allora quelli dicono, ma tanto ormai lei si è abituata col fatto che... Eh no, non mi sono affatto abituata. Ecco, questa è una... E non si vede la foto, no? È una foto, tra le altre cose, di un convegno che abbiamo fatto quando c'era... Avete fatto venire anche un cardinale, avete fatto venire. Quindi siete per la chiesa voi. Sì, sì, mio marito era molto amico del cardinale Urso di Napoli, che è venuto già due volte, che venne due volte, sempre su invito di mio marito, perché lo accompagnava, eccetera, eccetera. Eravamo amici del... Ecco, si vede il cardinale. Del vescovo... Il cardinale. No, no, questo è il vescovo d'Addasio. Il cardinale dove sta? Il cardinale dove sta? Ah, non c'è il cardinale. Comunque sempre con il vescovo, i cardinali. Quindi avete sempre dialogato. Certo, veniva ai convegni, veniva... Il vescovo qui partiva con la sua macchinetta, mi ricordo... La macchinetta? La macchina antica. Che era la macchina antica? E veniva da solo. La balilla? Eh, senza autisti, senza niente, veniva... Che era la balilla? No, no, adesso non mi ricordo che macchina era, la Norris. Che una? Una Roll Royce? No, 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 è assoluta. Quindi è una cosa molto seria. Vabbè, lo so, però... Noi non possiamo... E già, ma se quelli vi dice no, tutto a Don Marco e a voi niente? Adesso dobbiamo vedere, perché non penso che il sindaco, che noi stimiamo anche tra le altre cose, perché facciamo tante cose con lui, lui è sempre presente. Per esempio, abbiamo così inventato a Pasqua, lui porta queste uova di Pasqua. Chi è lui? Il sindaco, ed è un momento di colloquio che le persone, i bambini hanno col sindaco... Sì, ma la cosa più bella è un dono per un sorriso. Poi a Natale si fa questo, un dono per un sorriso. Ecco qua il sindaco con... Sì, vabbè, poi il sindaco... Questa è l'università, abbiamo fatto dei corsi anche all'università d'Annunzio. Questo va bene, sì, sì, sì. Questo è il convegno. Bravo, ma... Qua è il mondiali... Sì, ma non faccio vedere tutte le foto. No, no, io ci tengo, per come ci tengo anche a tutte le... L'università. Tutte le... Io ringrazio, io mi scuso con tutto il personale tecnico della televisione, perché sto facendo fare degli sforzi sovrumani a tutti quelli. Per colpa mia, perché mi piace fare le cose originali, capire? Sennò facciamo sempre le stesse cose, tu sei origine, tu sei di Sorrento. Sì. Fermati. Chi è nato? Tu che scuola hai fatto? Io ho fatto... Chi è nato? Vabbè... No, non lo sai. Giovanni Nozzi, scusa, lo so che sei impegnato, ma chi è nato a Sorrento? Un poeta. Eh, quello. Torquato Tassu! Bravo, bravissimo. Bravissimo. È il mio vicino di casa, tra le altre cose. Ma ora sarà morto, credo. Beh, scusami. Come, vicino di casa? Eh sì, perché io ho la casa al centro storico, quasi vicino al suo castello. Perché lui c'è un castello. Sì, c'è un castello. Che si affaccia sulla costa, quella che si chiama costa. E là aveva scritto La Gerusalemme Liberata. Là l'ha scritto, si ispirava. Certo, certo. Perché i saraceni assalivano la costa. I saraceni, questo, la labarda c'avevano. No, che te ne aveva? La scimitarra. La scimitarra. I saraceni, la costa. La costa. Sì, comunque io voglio dire... Vabbè, insomma, fai un appello. Fai un appello, fai un proclamo, fai un discorso. Io questo è il discorso che faccio. Per tutto ciò che abbiamo fatto, per quello che facciamo e per quello che faremo... Lo faremo, forse. Beh, forse. No, ma io comunque lo faccio, perché Giulianova è la nostra città. Noi ci abitiamo... Perché tu sei, sorrendo, ma sei nata in provincia di Teramo. Sì, in provincia di Teramo. Dove? A Colonnella. Invece tuo marito Ruggero, proprio di Giulianova. Del sordo di Ruggero. La famiglia, eh? Nella casa dove io abito, tra le altre cose. Sì, va bene. Lui amava tantissimo, quello perciò fece questa società. Poveretto, è morto. Perché amò. Ah, poi noi quindi abbiamo sempre lottato per ottenere le medaglie, abbiamo sempre lottato... Ecco, qui l'abbiamo inguadrato, grazie all'ottimo Simone, abbiamo inguadrato tutte le medaglie che ti sei... Io ho detto che poi se ne porterà qualcuna, ti ha portato tutto il baule con le medaglie. Tutto, perché non voglio toccarle per come sono disposte. Tra cui la famosa Stella d'Oro. La Stella d'Oro, poi c'è anche quella del Cavalieri... Allora, qua c'è una bella lettera di Canaletti, che è il Presidente del Coni. Il Presidente del Coni. Il quale va sempre voluto bene. Sempre, ci ha sempre stimato e vuol venire anche a Giulianova per parlare con il Sindaco. Io adesso lo inviterò per il giorno 19. Oh Sindaco, dai, tre stanze a... troviamo un accordo. Sì, sì, ma lui ha detto di sì, perché... E ha detto di sì, ma la delibera... Certo, certo, bisogna vedere, bisogna parlarne. La povera pinna, dai su, che è una matta è. No, no, matta, in senso così dai, ma... In senso che fai le cose che... No, noi siamo delle persone serie. Sì, no, a parte la... Fai le cose che non ci guadagni. No, ma questo è il punto. 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 Però io coinvolgo delle persone che ci danno una mano. E lo so. Ho coinvolto il Sindaco e lui si è preso l'onere di portare queste uova, quindi abbiamo avuto un momento... Le uova di Pasqua. Un momento di... Tieni questa lettera di Canaletti. Un momento di incontro quel giorno. Tu sei amica invece di Serpetti pure? Di padre Carmine. 40 anni è stato su al convento. Ah. E quindi negli anni... Gli dobbiamo dare anche il merito. Cos'è questo? Questa è una delle prime... La società è nata nell'87 e nell'88 già avevamo fatto queste manifestazioni a livello nazionale. Voi 5 a 5 di Italia-Ungheria. Sì, già nell'88... E quindi è uno dei primi giornali che io... A noi all'epoca c'era il giornalista Cianciotta. Sì, Tiberio. Che era molto affezionato e ogni volta che si faceva qualcosa ci faceva degli articoli eccetera eccetera. Comunque, insomma, tutte queste cose per questo sport che è uno sport serio, per noi che lo siamo, io non intendo assolutamente... Le donne non lo fanno però, vero? Sì, sì, sì. C'avete donne? Due a casa di trenta. E una fa la studentessa di medicina. Ma se le portiamo una volta, tra poco vedremo un'esibizione straordinaria. Ma noi abbiamo bisogno di una materassina con dei cerchi olimpici. e non possiamo... Ah, lui è microfonato. Tra poco avremo una manifestazione straordinaria. E quindi tu mi porti poi le ragazze che fanno la lotta? Eh, però noi dobbiamo pure montare una materassina, una cosa... E' la... Eh, eh, non c'entra proprio. Quello è il nostro problema. Anche quello è il nostro problema. Perché c'è il palazzo... Anche questo, perché quella è una materassina olimpica di 10x10. 10x10! Allora, noi abbiamo fatto molti campionati italiani al palazzetto dello sport di Giulianova. Oggi non è più possibile farli perché sono al di fuori delle regole consentite. Non ci manca i metri. Ecco, quindi al di fuori delle regole consentite... Ma non puoi farci vedere con un piccolo materassino? Dai, su. Uno, un cerchio. Un cerchio. Là, vedi, tu impuso, guarda quei ragazzi che si stanno preparando. Ma loro hanno un altro... Guarda qui, piccolino. E' quello tutto piccolino. Sette. Sette? Sette. Tu sei più anziano, tra virgolette? C'è una donna, cioè. Che fate oggi voi qui? Un fu... Eh, vedi, questa è già un'altra cosa. C'è là il microfono. Gliel'ha messo l'ottimo Simone, come no? Questa è già una cosa che... Ci parliamo? E' uno sport orientale. Ma puoi parlare? Questo è uno sport orientale, già è un'altra... E' comunque una cosa simpura e bella, verremo nella bella esibizione. E' un'altra cosa comunque da... Tu però ci porti le ragazze che fanno la lotta, promesso? Le ragazzine, sì. Noi abbiamo fatto il campionato italiano femminile pure. Ebbè, come siamo andati? Il Presidente della Repubblica ci ha dato anche la medaglia. Quale Presidente? Quello napolitano. Quindi, quello attuale. Quindi, recente. Sì, l'abbiamo fatta a Roseto, perché appunto Roseto ha i requisiti... E noi ne devemo requisiti. Noi non ce le abbiamo, e noi non ce le abbiamo. Te deve venire i requisiti, va bene. Allora, comunque, le puoi portare le ragazze qua. Perché c'era un famoso campione da scagno che adesso però lavora, vero? Ma in genere i ragazzi si arrangiano, sai perché? Perché da questo sport non è che si... Noi abbiamo avuto un premio del CONI quando quel ragazzo... Sì, il premio del CONI avete avuto tanti poi. Anche il sindaco va premiato in sala consigliare. Sì, sì, sì. E adesso chiederò ancora di fare... I danni. I danni. Noi, i danni. Di fare una cerimonia per i 25 anni. Grazie signora. A me piace. Ci fa sapere, salutiamo Carmine Serpetti. Certo, certo, certo. Ma pure Don Marco salutiamo. Certo, certo. Perché non si risolve il problema al convento. Siamo pronti, che succede? Io penso che si risolve il problema al convento. Allora, sentite ragazzi, adesso voglio sapere se è caldo. Il ringrazio è anche prezioso, il famoso maestro prezioso che si è dovuto un po', come dire, mettere un po' da parte, sì, per far posto ai... Come vi chiamate voi? Noi siamo alla Imba, scuola di Giappone. Tutti in italiano. In giapponese. Ma mentre lui suona, loro si possono esibire già oppure... No. No, no, vabbè. Allora, sentiamo maestro, che cosa canti? Mentre qui tutto è in movimento. Non c'è la canzona, però, eh. Il giudice, quello famoso. Lo dovevi cantare quando c'era Siriano Cordone. Lo sai tu che qual è il giudice? Cosa si dice? Il giudice Falcone. No, ma che giudice Falcone? C'è una frase famosa. Maestro, non cominciare. Non lo so. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Dai, continua. Ve lo rivela gli occhi e le battute della gente. E qua ti voglio. E poi chi è? Oh, la curiosità. Di una ragazza irrivelente. Che vuole sapere? Che ti avvicini. Tutto più impertinente vuole scoprirse il vero quanto si dice. Che vuol sapere se è vero quello che si dice intorno ai nani che siano i più forniti della virtù meno apparente tra tutte le virtù la più indecente. Capite che si tratta? Della parda. Va bene. Prego maestro, vada. Questa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivela gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità di una ragazza irriverente. Che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprirse il vero quando si dice intorno ai nani che siano i più forniti della virtù meno apparente tra tutte le virtù di un campo indecente. Passano gli anni e i mesi e se li conti anche i minuti che dovisse trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo fino a dir che un nano è una caroglia di sicuro perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo o nelle notti insonni, svegliate il lume e il rancore che preparai gli esami e diventai il procuratore per imboccare la strada che dalle panche di una cattedrale portare la sacrestia qui lì alla cattedra di un tribunale giudice finalmente arbitro in terra del bene del mare e allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla svarra in piedi vi diceva vostro onore e di affidargli al boia un piacer del tutto mio prima di genuflettervi nell'ora dell'addio non conoscendo affatto la statura di Dio Buongiorno, il terzo ospite ha detto che ci sarà una rappresentazione che mai in televisione si è osato tanto si potrebbe dire e la scuola di arti marziali del maestro, professore professore maestro, professore maestro, che è? Shifu Shifu Luigi Noiobbi che hai portato con te per la scuola di arti marziali che si esibiranno dal vivo dal vivo, sì dal vivo con l'alabarda anche che abbiamo già potuto ammirare e con un bambino piccolino che si vede in prima fila quello là ti dico i nomi? sì sì, presenta Alessandro, col kimono Bordeaux col kimono, con sei anni c'ha? sì, pratica da un anno lui corregge, dice sette sette, sei o sette? sette, è corretto poi abbiamo Rita over over cinquanta, non diciamo ventiquattro anni c'ha Rita che pratica da sette anni poi abbiamo Stefano che c'ha la spada lì davanti che pratica da quattro anni poi c'è Marco che pratica anche lui da quattro anni poi c'è Fabrizio anche lui da quattro anni e Matteo con l'alabarda l'alabarda Sciaolini che pratica anche lui da quattro anni quattro anni? oh ma sono altri ovviamente abbiamo fatto una abbiamo portato una selezione ce ne abbiamo tantissime che cosa fanno? allora loro questa mattina faranno delle forme dello stile di Kung Fu dell'amante religiosa sette stelle che è lo stile più prestigioso della Cina del Nord posso fare una domanda brutta però tu mi rispondi a che serve? il Kung Fu serve per la disciplina se può essere una cosa pratica che si può applicare poi che tutti vedendo possono fare se riferisci alla difesa personale ovviamente si può applicare e poi è una disciplina che fa bene tantissimo alla salute tu pensi che sono maestri di Kung Fu che vivono fino a 90 anni fino a 100 anni con le loro capacità fisiche da noi ci stanno bene sì ma con le capacità fisiche intatte hai 100 malattie esatto e tu lo fai pure? sì lo dico fai? sì non c'è niente è un doloretto i doloretti ci sono non è che non ci sono i dolori però arrivi a 100 anni che hai delle capacità fisiche di un settantene di un sessantene dov'è essere lucido tranquillo e questo aiuta aiuta tantissimo ma loro faranno ognuno per conto proprio ognuno per conto proprio e poi alla fine se vuoi posso spiegare qualche concetto così si capisce meglio per far capire la gente certo arti marziali o siamo pieni di cinesi noi ormai in Italia sì però gran parte dei cinesi che sono qui non fanno arti marziali ma perché? non è perché sono cinesi che fanno tutti gli arti marziali non è detto molti giocano a pallone fanno calcio ma anche noi in Italia il primo sport è il calcio ma non tutti non tutti lo fanno certo certo e invece lo faranno loro insieme ognuno per conto proprio? ognuno per conto proprio alcuni faranno delle forme a mani nude e alcuni faranno delle forme con le armi oh però l'alabarda ha detto che non è mortale però insomma la botti di alabarda no l'alabarda quella non è è l'alabarda Shaolin quindi è un po' più soft l'alabarda del generale Kwan che ha un'altra forma ti taglia la testa la usata esclusivamente per decapitare per tagliare la testa ecco adesso vedremo qualcosa prima di vedere direttamente dal vivo vedremo qualcosa dal morto cioè qualcosa che è stato già registrato e tu insomma da quanto tempo si pratica questa nella tua palestra questa attività? allora io insegno da oltre 25 anni ma lo stile anche tu c'è una certa età anche io c'è una certa età sì però lo stile dell'amante religiosa ci stiamo lavorando da nove anni nove anni l'amante religiosa che è un? l'amante religiosa è un insetto un insetto e poi è risaputo che gli stili diciamo di Kung Fu risalgono si rifanno alle caratteristiche degli animali quindi c'è quello della tigre quello della gru quello del serpente e in particolare quello della mantide veramente efficace perché si fa proprio alla velocità la spietatezza alla tranquillità proprio con cui la mantide aggredisce la sua preda e poi o loro sono vestiti con i kimono classici? sì che in cinese si chiama Yifu e ma il piccolino ecco vediamo le immagini che vediamo le immagini è un documentario ecco la mantide è un documentario sullo stile della mantide religiosa dove dice che esistono vari stili in cina c'è lo stile sette stelle che è quello che pratichiamo noi che si rifà alla teoria dell'orsa maggiore quindi c'è anche ci sono anche dei concetti di alchimia taoista dietro cosa vuoi tradurre quello che è scritto là in cinese beh lì c'è scritto che significa bocci della mantide religiosa ecco sotto l'italiano la bella lingua italiana la bella lingua italiana il piccolino da solo fa? lui fa da solo e noi possiamo fargli fare già tutta una cosettina al piccolino? perché no? perché no? il settenne sei sette anni tu non sei e che fai? senta che dici fai dì tu Luigi Faliè in Puccioan la prima forma che si impara ma puoi tradurre per favore l'italiano la box che studia i passi la box che studia i passi è la prima forma che si impara quando si inizia a fare Kung Fu e lui si chiama? lui si chiama Alessandro Milito dai attendo vai a mettersi di là bravo devi stare più a centro eh bravo come è andato? è andato bene doveva partire dall'altro lato e lo so ma abbiamo dei problemi stiamo facendo dei miracoli però è andato bene è andato bene è andato bene è andato bene va bene sei contento sei andato bene? che scuola fai? fa bene con le dita perché non sei microfonato 4 3 che scuola fai? la seconda e oggi hai fatto show però non sei andato a scuola va bene allora chi viene adesso? allora adesso facciamo fare Stefano lo facciamo in ordine di età però mettiti Stefano è partito già mettiti in diagonale come abbiamo detto prima mettiti ecco aiutalo 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 va bene la spada è la forma più prestigiosa puoi parlare puoi parlare la spada è l'arma più prestigiosa del Kung Fu ma è pericoloso? beh no quando ci si allena no però anticamente era un'arma da combattimento quindi tutte le tecniche che si fanno beh però quello che si valorizza nel Kung Fu è l'arte quindi il fatto di coordinare i movimenti del corpo è andato molto bene rifà un altro pezzetto mi è piaciuto rifà rifà un altro pezzetto spadoso dai ripetila ripetila bravo si chiama costui? si chiama Stefano Stefano di dov'è? è di Giulianova ah non ti devi allontanare rimani lì Stefano bravo non ti spostare di molti tanto lo puoi fare così ma con quella spada si può uccidere? cioè loro quando fanno con quella lì no con quella è finta quello è un giocattolo no no ma loro quando lo fanno veramente possono uccidere in Cina quando uno è allenato e arriva un aggressore può dare una spada è chiaro è chiaro è chiaro quindi è una cosa è pratico anche come no? sono tecniche pratiche lui è diventato campione italiano con quella forma campione italiano invece che ho apprezzato io li ho fatto rifare che ho notato già nel ragazzo qualcosa in più chi viene? eccolo qua Anni che cosa c'ha lui? che arma c'ha? diciamo che quando si stava la guerra quelli con la sciabola erano un po' più avanti capito? andavano per primi è partito non deve andare fuori telecamera però diglielo Luigi ma adesso torna indietro se no non si vede non ci deve proprio andare ecco bravo grazie alla regia che sta facendo Gaia sta facendo miracoli questa mattina ha superato i grandi maestri di teleponte che ci sono da tanto tempo da tanto tempo e grazie anche al direttore paziente però è una bella cosa insomma questi ragazzini quant'anni c'ha lui? lui ha 14 anni abbiamo detto che è una forma di difesa ma anche fa bene al corpo farlo si fa bene al corpo ma soprattutto alla mente perché lì devi coordinare il movimento fisico con tutta una serie di particolari la respirazione lo sguardo la postura la stabilità fisica tu mi hai detto la maggior parte c'erano 4 anni che fanno io ho allievi anche che praticano da 15 anni e che fanno non finisce mai no lo stile dell'amante religiosa è lunghissimo non finisce mai è lunghissimo è lunghissimo bravo ragazzo ho fatto pure il saluto vero? si bravo ci avviciniamo anche alla donna ci avviciniamo alla donna dopo la donna buongiorno donna si chiama? si chiama Rita ed è un erborista un erborista che per la fame ha perso la vista perché fanno mangiare loro? eh? potete mangiare poco? quanti anni ha la signora non ti dice quanti anni fa quanti anni ha però da quanto lo fa hai detto? Kung Fu lo fa da 7 anni quindi potrebbe anche insegnare? è istruttrice è istruttrice ha conseguito la cintura nera qualche giorno fa ma perché poi sono i campionati nazionali di Kung Fu? si fanno anche nelle federazioni ci sono le gare dei combattimenti le gare delle forme e poi viene praticamente valutata la postura l'equilibrio la stabilità la velocità ecco la signora è a mani nude cioè non ha nessun'arma invece nessun'arma perché bastano le mani? si perché diciamo che nel Kung Fu si imparano le tecniche con le armi ma innanzitutto si lavora a mani nude a mani nude l'amantide non ha armi quindi no per poverà allora allora siamo pronte? si può cominciare? mi raccomando non uscire di telecamera la forma che lei sta facendo si chiama Xiaofang significa la box dei piccoli vortici infatti si fanno molte volte delle tecniche con diciamo dei vortici delle braccia Luigi puoi dire di stare un po' più verso destra? il discorso è che quella è una forma codificata quindi anche loro stanno facendo miracoli e te lo garantisco tutti i miracoli anche loro stanno facendo miracoli perché diciamo non è facile una volta che sei partito sei partito però ci siamo dai ma una lotta a due non si può fare? una lotta a due poi se vuoi ti facciamo vedere qualcosa a noi si voglio vedere una lotta a due alla fine alla fine così spiego anche qualche concetto allora tocca adesso tocca a Marco Marco Anni di dov'è? di Giuliano ah non c'è uno di fuori no questi sono tutti di Giuliano Notaresco c'è a Notaresco c'è c'è un alabardista di Notaresco lui che fa adesso? che tecnica è questa? lui fa la forma che si chiama chachoei entrare martellando praticamente è una forma che si basa moltissimo su una tecnica che si chiama pichoei che significa pugno che spacca il baricentrino il baricentrino è molto basso vedi che ogni tanto batte i piedi batte i piedi batte i piedi proprio per diciamo sottolineare la potenza del colpo entrare martellando entrare martellando anche lui è diventato campione italiano con l'esecuzione di questa forma io non mi permetterei mai ma se vado là e tendo ad aggredirlo che fa lui? fa queste cose qua? alcune di quelle tecniche ogni volta che vedi quel movimento saranno 10-15 tecniche che tu vedi 10-15 applicazioni me ne basta 2-3 di quelle 2-3 cazzotto me la senza speranza non mi posso beh poi dipende sempre da tanti fattori però noi sono contro la violenza quindi però lui l'ha fatto bene sì sì l'ha fatto bene e adesso abbiamo l'alabarda l'alabarda e qui qui veramente ci vuole il miracolo spendi qualche parola in più ci vuole il miracolo da parte sua e il miracolo da parte della regia perché l'alabarda quant'anni ha? allora lui ha 18 anni è molto grande quant'è alto? ha 18 anni fa basket? che dobbiamo fare ragazza bella? dobbiamo parlare? sì 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 allora esistono tre tipi di alabarde sì c'è l'alabarda corta che si chiama l'alabarda che azzoppa i cavalli e che l'alabarda che azzoppa i cavalli giamma dao sì perché praticamente il guerriero invece di colpire il guerriero il guerriero colpiscono i cavalli crollano esatto i cavalieri per diciamo quello no quello non è l'alabarda questa no questa è l'alabarda Shaolin invece Shaolin e poi c'è l'alabarda del generale Quan che è un generale imperiare esistito nell'antica Cina e che era un grande condottiero oh questo in termini pratici quando si applicerebbe beh oggi oggi come oggi nella nostra società mai perché vai in galera se utilizzi quella è un'arma ma in Cina si può fare ma neanche in Cina ormai il Kung Fu diciamo che allora io voglio non può colpire nessuno lui no ufficialmente no voglio far colpire la Damiana Pin no è tanto brava ma ha detto che non uccide mi ha detto prima poi è l'arma lì allora non uccide perché il monaco Shaolin allora Shaolin è un ordine di monaci che esistevano in Cina e che praticamente lo scopo non era quello di ammazzare l'avversario ma di neutralizzarlo quindi l'alabarda viene utilizzata molte volte non di taglio ma di piatto per spingere l'avversario e non tagliarlo senza fargli male ho capito comunque è meglio non incontrarli questi qua su quello non ci piove siamo d'accordo meglio non incontrarli siamo d'accordo allora si chiama ha detto? lui si chiama Matteo Matteo allora mi raccomando cerca di non uscire di telecamera perché se no si perde il bello di questa esibizione alabardata vai Grazie. Qui ovviamente è necessario un po' più di destrezza. Eh lo so ma si sta muovendo. Alla fine tutto bello calmo, tranquillo, fatto di tutto, poi si rimette bello in posizione come se non fosse accaduto nulla. Grazie, grazie Matteo. Tu mi ci hai promesso che ci fai vedere anche una lotta, eh? Sì, vi faccio vedere, vi spiego alcuni concetti, alcune tecniche e ve le faccio anche vedere. Gaia, qua ci può andare direttamente là, uscendo di telecamera, cioè lui può passare per andare là? Può andare. Ok. Grazie, grazie Gaia, la più brava di Teleponte è diventata oggi. Vieni Matteo. Mi raccomando Luigi, hai capito qual è il problema? Non uscire di scena. No, io non mi muovo da qui. Non so che fate dei sacrifici. Allora. Che cosa farete adesso? Allora, una delle caratteristiche dello stile della mantide rigiosa, così come la caratteristica dell'insetto, è la velocità, ok? La velocità soprattutto nelle mani, d'accordo? Quindi esistono delle tecniche e degli allenamenti, nello stile della mantide rigiosa sette stelle, proprio per valorizzare questo tipo di discorso. Per esempio, c'è questo tipo di tecnica. Allora, che cosa ho fatto? Praticamente, blocco il braccio e lo vado a colpire. Lui mi para, intercetto la parata e colpisco dall'altro lato. Di nuovo lui para, abbasso le braccia e colpisco alto. Controllo sotto e colpisco basso. Controllo e poi alla fine metto a leva e butto giù. Ecco qua. Matteo, ma te fa un po' cadere l'origine? No, non posso cadere perché ho il microfono, quindi poi si spascia tutto. Se no, sta a farlo, può succedere. Certo che può succedere, tutto può succedere. Quindi qua siamo un po' violentini, eh? No, non c'è violenza. Ripetilo, ripetilo, mi ha piaciuto, ripetilo. Ogni tecnica che io faccio, lui prevede una parata. Eh ma una, però vedi che l'ha colpito da quest'altra parte dopo. No, l'ha colpito perché ha parato sempre. Ma perché cade? Para, para, cade perché siamo in televisione. Deve fare un po' di scena, ok? Però quella è una leva. Io la faccio piano e lui ammortizza la caduta. Altrimenti, in questo caso qui, si possono rompere i gomi. Che dolore, eh? Si può dire? Esattamente. Però dipende. A te tutto bene, tutto apposta? Dipende. Se l'avversario praticamente fa resistenza, allora si fa male. Se l'avversario è più morbido, uso la leva semplicemente per proiettarlo a terra. Il Kung Fu, diciamo, è l'università delle arti marziali, possiamo dire. Nel senso che io posso usare le tecniche, le combinazioni, semplicemente per neutralizzare l'avversario, quindi senza farli male. Oppure posso decidere di farli male, dipende dalla situazione. Come nel secondo caso, quando hai incrociato... Esattamente. Che dolore, eh? Esattamente. Che può succedere lì? Ti può rompere qualche arto? Eh, lì praticamente si fratturano i gomiti. Praticamente. Perché metto i gomiti a leva. Che dolore. Eh sì. Ma a te fa male? No. Ma abbastanza? Già così? No, quando gli faccio io non fa male. Ma ecco, meno male. Chi c'è? Poi che ne so, ci sono ad esempio... C'è un altro esempio. Ma a te ci sei capitato ormai, quindi... L'avevamo programmato, quindi... Allora, ci sono delle situazioni in cui magari un avversario ci può afferrare il braccio e ci può tirare a sé, no? Allora, esiste una tecnica ben precisa, indipendentemente dalla forza che ha il mio aggressore, per uscire fuori dalla leva e mettere a leva lui. Ok? Quindi io uso tutto il peso del mio corpo per venire fuori, blocco. È chiaro che in una situazione reale prima lo colpirei al viso. Ah, ecco. D'accordo? E poi faccio questo. Però se io non gli voglio fare male, perché vedo che magari il mio aggressore non è così violento, così pericoloso, allora uso semplicemente l'uscita, ok? E poi lo metto a leva. Queste sono tecniche di CINA, che significa intrappolare, prendere. Quindi sono tutti, diciamo, espedienti, tutti, diciamo, particolarità che ci permettono di uscire fuori dall'aggressione. Ad esempio, se mi afferra qui, spero che non sfascio il microfono. Un po' più sotto. Un po' più sotto, ok. Allora, con il mio gomito lo metto a leva e lo spingo via, ok? Quindi non l'ho colpito, non gli ho fatto male, non l'ho fatto niente di pericoloso, però l'ho messo a leva e poi lo butto via. Esistono tantissime tecniche, ci sono anche dei concetti teorici. Per esempio, lui tira un pugno, io schivo, gli faccio vedere il braccio, proprio per fargli alzare la mano e poi lo colpisco sotto. Ok? Lo possiamo, scusa, è molto bello, lo possiamo ripetere? Lo ripetiamo. A te scusa. Questo concetto si chiama Schusser, vero o falso? Faccio vedere una tecnica che sembra vera ma in realtà è falsa e mi serve per entrare con quella che poi è vera. Quindi lui tira il pugno, io gli faccio vedere il braccio, proprio in questa maniera, cioè lo faccio proprio molto ampio, in realtà che lui possa alzare, poi entro sotto e poi lo falcio. Poi da terra posso anche metterlo a leva. Agore? Beh, dipende da quello che voglio fare. E se c'ha l'alabarda? Se c'ha l'alabarda posso usare una spada, che è più facile. No, tu non gioi niente. A mano nuda, allora. Eh, qua ti voglio. E l'altro è l'alabarda. Dai Mattei, vendicati un po'. Non sento a fargli male però. Il discorso dell'alabarda funziona così, è un'arma lunga. Quindi io devo stare o a distanza sua oppure devo entrare nella sua guardia. Per esempio lui fa un attacco qualsiasi, non c'è problema. Una volta che io sono qui lui l'alabarda non la usa più. Ok? Però tu devi sempre ogni volta schivare il primo colpo. Per forza, se no lo prendi. Non posso sicuramente pararlo, su quello non ci piove. Posso anticiparlo. Per esempio se lui carica una tecnica dall'alto, io entro sotto, metto a leva e gli tolgo l'alabarda. Gli togli pure l'alabarda? Povero Matteo, che figura. Va bene. Non gliela posso lasciare. Ma con la ragazza non puoi fare niente di tutto ciò. Perché no? Proviamo. C'è la parità dei sessi. Allora. Lei assale o assali tu? Se la assalgo io, quindi lei poi si difende con me. Eh dai, perdi una volta. Eh va bene, perdiamo. Dai. Allora per esempio, che ne so. Ti faccio l'aggancio al collo. Ok. E qui. Oh. Eh, bravissima. Il finale sembra il livello. Spieghiamo un attimo. Eh beh, per forza. Spieghiamo un attimo. Allora, tentativo di strangolamento. Lei alza il braccio destro, ruota il busto e automaticamente va via la mia presa. È automatico. Proprio perché si gira proprio con il corpo. Anche se stringi forte? Anche se stringo forte. Perché è il busto che fa il movimento. Dopodiché piega il gomito e mi arriva una gomitata al viso. A questo punto, ginocchiata sotto. Pisello. Eh no, con gli omi. Anche. O plesso solare. Sì, sì. Anche. Ok, ho detto. E quindi si capisce, insomma, come va a finire. Ma allora, se devi invece aggredire lei? Beh, una donna io non l'aggredirei mai. Non lo devi colpire lì. Se la voglio aggredire, magari non gli faccio del male, che ne so. Eh, però insomma, metti. Che so, mi tira uno. Cioè, ti ha detto Luigi, mi dispiace, io non ti voglio sentire, sono innamorato di Marco, quindi te ne devi andare. Tu hai un gesto di reazione che fai? No, la reazione mai. Se lei ha un'azione nei miei confronti, posso fare una reazione. E dice, va, vattene, non ti voglio sentire più. Mi dà uno schiaffo. Uno schiaffo, eh. Mi dà uno schiaffo. Allora io lo blocco, poi pian piano la butto giù, la faccio cadere, e la blocco e la mortifico. Nel frattempo arriva Marco con l'alabarda e ti dà la morta e ti dà le spalle. In gioco, ma questa è una cosa molto bella, molto pratica. È una cosa pratica, ma soprattutto fa bene alla salute. Fa bene alla salute. Stanno tutti bene, eh? Sì, soprattutto noi abbiamo avuto dei risultati grandi con i bambini, un po' magari esuberanti, un po' troppo... Vivaci? Sono diversi, troppo vivaci e si sono calmati perché le arti marziali, poi dipende molto dalla scuola e dal maestro, ma le arti marziali devono fortificare la personalità delle persone. Ma anche questo vale anche per gli adulti, quindi anche per discorso ansioso, discorso stress, eccetera. Quindi anche per questo serve. Sì, la pratica costante dell'arte marziale registra da millenni praticamente anche un miglioramento psicofisico. Molto bene. Allora, grazie maestro. Quindi ricordiamo che devono fare. Non è che fai pagare molto per farsi cose. No, no, non faccio pagare molto. Non si paga molto, dici, dai su. Non faccio pagare molto. Non faccio pagare molto. Bene, allora puoi tornare qua. Noi siamo in chiusura. Che è due? Due a zero? D'andranno, ma ancora presto. Allora vogliamo, per favore, maestro, devi chiudere. Tocca a te. Perché ti hai messo l'upulco? Ah, fa un po' freddo qua, lo so. Questi risparmiano, maestro. Intanto ringraziamo tutti, fai tutti i nomi, salutiamo. Rita, Marco, Alessandro, Stefano, Fabrizio e Matteo. Va bene. E lui, il maestro Luigino Iobbi, con la testa rassata. Grazie. Grazie ai tecnici. Chiudiamo qua, ci salutiamo qui. Ma è come ci salutiamo? Che hai detto? Non ne parlano, non ho sentito. Con Bocca di Rosa. Ah, la chiamavano Bocca di Rosa. Che faceva? Maestro, che faceva Bocca di Rosa? Metteva l'amore, metteva l'amore. Bocca di Rosa metteva l'amore. No, dove? Questo non lo diciamo. Non si può dire, va bene. Siete tutti così. Lo dice la canzone, metteva l'amore sopra ogni cosa. E quindi, ovunque. Allora, grazie a tutti, buon fine settimana con Fabrizio di Andrè, l'ottimo maestro prezioso. Grazie. Grazie a te. Ci va si alza? Buon fine settimana con Fabrizio di Andrè. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scese la stazione, nel paesino di Sant'Irarrio, di chi si accorsero con uno sguardo, che non si trattava di missionario. Per chi l'amore lo fa per noi, lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno e nell'altro, ne lo faceva per passione. La professione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie. E magari si è concupito al cuore libero, pure moglie. Così che da un giorno all'altro, Bocca di Rosa si tirò addosso, di rapuneste delle cagnette, cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino, fin hanno certa iniziativa, e con due misure fino a quel punto si limitavano il ventino. Sa che la gente dà buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempo, sa che la gente dà buoni consigli, se non può più dar cattivo sempre. Una vecchia maestra da moglie, senza me figli, senza più voglia, prese la briga di certi gusti, di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, e a vostro fuoco parole arcute, purtroppo l'amore sarà punito, disse dall'ordine costituita. L'andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa c'era troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote, tutti i giancolmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno, l'accompagnarono malvolentieri. L'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario Sagristano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e i capelli in mano. Salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera, diceva, Dio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Dio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Dio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.